Bene, possiamo iniziare la presentazione Innanzitutto mi presento, io sono Massimo Cavagna di Alplan Italia e oggi vedremo un argomento molto interessante e cioè i vantaggi del BIM per la ristrutturazione sarà una presentazione un po' a tutto campo vedremo vari metodi di rilievo e vedremo anche come operare con un modello BIM legato appunto alla ristrutturazione tema che molto spesso non viene affrontato in questi seminari perché bene o male tutti si concentrano sul nuovo sappiamo benissimo che in Italia abbiamo un parco costruito enorme e quindi la ristrutturazione sarà un tema indubbiamente del futuro e per la ripartenza dell'edilizia collegato insieme a me c'è anche il mio collega che vi risponderà alle eventuali domande che vorrete porre per cui come vi dicevo siamo veramente in tanti abbiate un po' di pazienza cercheremo di rispondere appunto a tutte le domande per cui cominciamo un po' entrando nel vivo di questa presentazione e che cosa vedremo nel dettaglio allora in sostanza appunto vedremo il recupero di edifici esistenti dividerò in tre parti questo webinar la prima parte sarà una case history per cui vi mostrerò questo modello BIM di un edificio sito in Rovigo un edificio che compariva già nelle antiche carte del XVII secolo quindi un edificio molto articolato, molto grande il progetto è stato curato dallo studio dell'architetto Francesco Allodoli il cliente è lo studio geometra Lunari e anche lui ha partecipato a redigere questo progetto poi andremo a vedere quali sono i metodi di rilievo e dividerò in due parti questo tipo di punto il primo faremo semplicemente un accenno a quelli che sono i metodi tradizionali di rilievo per cui rilievo con supporto cartaceo o con applicativi dedicati ma invece ci soffermeremo qui la cosa si fa molto interessante sul rilievo con strumenti laser scanner per cui vedremo approfonditamente come si può utilizzare questo strumento e come da queste nuvole di punti andremo a definire il modello BIM in Alplan ultima parte del seminario faremo appunto un esempio pratico per cui andremo a lavorare su un modello direttamente in Alplan un modello abbastanza tipico per cui non un modello non è piccolissimo non è neanche grande però con tutta una serie di informazioni al suo interno diciamo che vedrete riconoscerete proprio anche a livello di così di lavori che probabilmente incontrerete abbastanza abbastanza di frequente infine visto che parliamo di processi BIM andremo a vedere il 4D e il 5D anche nelle ristrutturazioni sapete che il 4D e il 5D sono i tempi e i costi nel processo BIM per cui diciamo non è soltanto una presentazione di Alplan per la ristrutturazione ma spero di farvi vedere un po' anche qualcosa di diverso dalle solite presentazioni come vi dicevo la prima cosa che andremo a vedere in questo caso vi mostrerò in pratica il lavoro fatto dallo studio dell'architetto Allodoli questo appunto è un edificio lo potete vedere nell'immagine un edificio abbastanza complesso nel centro di Rovigo per cui potete vedere insomma anche le dimensioni di questo modello è un modello BIM è stato creato un modello BIM per cui ricco di informazioni e cominceremo a intravedere qualche funzionalità per cui Alplan mi permette di gestire appunto questo modello BIM anche per la ristrutturazione ho trascritto una dichiarazione di Paolo Allodoli collaboratore dello studio Allodoli che ha fatto un'affermazione molto significativa con Alplan sono riuscito ad entrare dentro l'anima dell'edificio capirlo e viaggiare all'interno di un tour virtuale degno dei più rinomati format di intrattenimento scientifico in sostanza diciamo provate a immaginare strutturare, modellare un edificio di questo tipo molto grande e poterlo navigare integralmente in tridimensionale capisco che l'architetto diciamo abbia avuto queste sensazioni non mi soffermo altro diciamo sulla presentazione ma mi sposto direttamente nel plan per cui quello che vedete è la piattaforma Alplan per chi non lo conosce il nostro software BIM software che naturalmente copre tutti gli ambiti della progettazione integra in sé quello che è un modulo anche bidimensionale coprendo diciamo tutta la parte di ovviamente architettura passando per l'ingegneria modello digitale del terreno presentazione con il motore di Cinema 4D per il rendering per cui diciamo veramente una piattaforma BIM completa andiamo quindi a vedere un po' questo questo modello come vi dicevo prima prima lo avete visto nell'immagine vedete che è un modello insomma abbastanza complesso in tutte le sue parti vedete che comunque il motore di Alplan riesce a gestirlo in maniera molto veloce magari lo guardiamo un attimino nel dettaglio vado con il navigatore oggetti a spegnere quelli che sono gli edifici circostanti in modo da poterlo vedere diciamo isolato vedete che è stato modellato ad esempio se mi avvicino a queste trifore vedete che anche la parte del comignolo i contorni di questi fori sono stati tutti modellati perfettamente compreso il cancello che è stato ricostruito integralmente per cui vi dicevo il modello è estremamente diciamo complesso ma allo stesso momento molto preciso mi sono salvato delle viste che possiamo andare a richiamare vedete che diciamo ho salvato delle delle prospettive sui diversi angoli di questo modello magari ne saltiamo alcuna vedete che è molto preciso su tutti i lati del del modello andiamo a vedere anche qualche dettaglio su quella che è la corte interna ok qui siamo all'interno del modello vedete le modanature ad esempio delle gronde e andiamo a vedere la vista dall'altra parte ok per cui ripeto il modello è stato costruito integralmente e qui ovviamente ho tutta una serie di informazioni poi facciamo un piccolo accenno merita forse vedere quelle che sono alcuni dei layout di stampa che abbiamo creato vedete che diciamo qui ci sono le tavole di raffronto impaginate diciamo molto bene con i richiami sulle piante di dove sono state fatte le sezioni notate che anche dalle sezioni l'edificio è parecchio complesso ci sono stati degli spostamenti anche sugli orizzontamenti oltre che naturalmente alla riconfigurazione dei diversi livelli del modello qui abbiamo le sezioni di raffronto qui abbiamo invece le sezioni pulite vedete che il layout che mi mette a disposizione al plan mi permette appunto di definire queste tavole molto dettagliate e anche molto gradevoli proprio dal punto di vista grafico ok qui diciamo era soltanto per mostrarvi un po' come è stato elaborato questo progetto usciamo dal layout di stampa e magari ci richiamiamo soltanto una parte di modello un piano per meglio dire per cui vado a richiamare la struttura dei disegni del plan e vado a caricarmi la pianta del piano primo ok andiamo ad isolarla in questo modo magari il prospetto al momento non ci interessa e vediamo insomma anche la complessità interna di questo modello allora qui in sostanza adesso introduco un po' quello che è il discorso di ristrutturazione allora pensare di fare un modello BIM di questo edificio naturalmente se noi seguiamo quelli che sono i canoni i dettami per meglio dire di processi BIM non vi dico che risparmerete tempo anzi probabilmente diciamo avendo piena padronanza di Alplan insomma faticherete molto a contenere diciamo i tempi perché qui ci sono veramente tante informazioni però ovviamente i vantaggi arrivano dopo vi ho fatto vedere prima in anticipo il 4D e 5D tutte le informazioni report e quant'altro ciò nonostante qui questo modello è stato fatto con alcuni criteri per cui se io passo ad esempio da una vista di progetto a una vista di raffronto vedete che comincio a vedere in rosso quelle che sono le modifiche che ho fatto all'interno di questo modello e se vado ad attivare quelli che sono i layer delle demolizioni vedrò anche quelle che sono le parti demolite del modello per cui diciamo quello che probabilmente avete visto anche in altri webinar è stato utilizzato per fare questo modello per fare questo tipo di elaborazione sono state utilizzate delle funzioni specifiche che ha il plan a disposizione in particolare queste due funzioni conversione ristrutturazione e corpi demolizioni sono funzioni che naturalmente trovate nelle palette nell'ambito di architettura per cui le trovate qui conversione e corpo demolizione sono praticamente due macro comandi che una volta configurati vi permettono di fare questo tipo di cose per cui io qua me li sono tirati fuori in una toolbar personalizzata per lavorare più velocemente per cui qui posso andare magari anche a catturare con questo metodo diciamo un muro che avevo precedentemente demolito vedete qua mi sono dimenticato di togliere questo muro lo tocco applico e il muro in questione assume le caratteristiche di demolizione ok questo cosa significa significa che portandomi nella visualizzazione di progetto e andando a spegnere di fatto quelli che sono i layer delle demolizioni renderò pulito e mi ritroverò quello che è diciamo così lo stato di progetto del mio in questo caso secondo piano di questo edificio la tecnica utilizzata in sostanza è quella che avete visto per cui con il raffronto e attivando quelli che sono i layer il tutto praticamente mi compare nello stato di raffronto rimaniamo magari sul progetto e diciamo questo era soltanto un po' un assaggio di quello che andremo a vedere in questo seminario torniamo per un secondo alla nostra presentazione come vi dicevo la seconda parte la voglio dedicare al metodo di rilievo perché molto spesso viene un po' bypassata questa fase come se le informazioni che io devo reperire per costruire il modello fossero quasi secondarie sappiamo benissimo che è una cosa fondamentale reperire tutte le informazioni quando vado sul posto qui io vi ho semplicemente simboleggiato sulla vostra sinistra potete vedere il classico schizzo che normalmente noi facciamo e poi andiamo a rilevare quelle che sono le misure con una corda metrica o con un disto un disto laser come quello che vedete nell'immagine a destra eventualmente potrei avere degli applicativi in sostanza che mi aiutano un po' a definire a livello informatizzato il mio schizzo diciamo però anche qui non avrò mai tutte le informazioni che mi potranno dare gli strumenti di rilievo laser scanner farò molte fotografie farò tutta una serie di documentazione però quando io mi sposto in avanti nel tempo magari diciamo queste informazioni faccio fatica a ricollegarle mi soffermo invece un po' di più sulla parte di rilievo laser scanner qui porto un esempio allora qui stiamo vedendo il rilievo di un centro commerciale un edificio a due piani molto grande nel periodo di chiusura in tre ore è stato praticamente rilevato tutto i punti rilevati sono stati diciamo più di un miliardo qui apro una piccola parentesi perché se fosse così semplice così comodo utilizzare questi strumenti bene o male li avremo utilizzati tutti diciamo che qui poi si innescano alcuni discorsi come ad esempio il costo di questi strumenti che in realtà diciamo negli ultimi anni è un po' calato non stiamo più parlando dei 100 mila euro 80 100 mila euro ma diciamo sono notevolmente scesi di prezzo anche se si parla comunque di prezzi abbastanza elevati intorno ai 20 25 mila euro poi ci sono anche sono rimasti quelli diciamo molto costosi però quelli che voi vedete quelli della faro ad esempio hanno grossomodo quel tipo di prezzo qui il problema non era tanto fare il rilievo con questi strumenti il problema è la restituzione e qui abbiamo il classico collo di bottiglia cioè tenete presente che fare un rilievo per cui andare diciamo magari da uno da uno studio che fa di lavoro di mestiere questa cosa come ad esempio prima il topografo faceva il piano quotato per cui faceva il rilievo topografico qui adesso avremo diciamo degli studi che fanno questo tipo di rilievo magari gli stessi topografi questi praticamente io li posso commissionare posso commissionare a loro il lavoro con una cifra che va dai 500 euro ai 1000 euro al giorno mi fanno diciamo il rilievo vedete cosa possono rilevare per cui il costo diciamo così potrebbe essere contenuto dove sta il problema il problema sta se io oltre alla nuvola di punti che gli richiedo di rilevare voglio anche i disegni ed è lì che i prezzi salgono perché non c'è niente da fare qui bisogna metterci mano ancora manualmente e costruire il modello molto spesso vengono costruiti dei bidimensionali per cui vengono restituite piante e sezioni vediamo il tipo di proposta che facciamo noi allora torno un attimino nel dettaglio del discorso il laser scanner rileva tutti gli oggetti visibili della sua posizione per cui fotografa esattamente quello che vede una normale scansione richiede circa 3 minuti di tempo per cui è velocissimo e vengono misurati circa 20 milioni di punti per scansione per cui diciamo lavoro come vi dicevo se ne fanno molti se considerate che possiamo arrivare fino ad 80 scansioni per giorno in una giornata diciamo riusciamo a fare dei grandissimi rilievi avete visto la galleria prima del centro commerciale in 3 ore è stata rilevata abbiamo un'altra risoluzione abbiamo la possibilità di rilevare a 360 gradi sul piano orizzontale e a 300 gradi sul piano verticale naturalmente rimane fuori in sostanza dove c'è il tripiede abbiamo la precisione che a 30 metri è di circa 2 millimetri per cui molto preciso e la possibilità eventualmente di una ripresa fotografica quella che vedete sulla vostra sinistra è la nuvola di punti ok i punti hanno un problema non sono classificati nel senso sono molti hanno una differenza di gradazione di colore perché appunto diciamo in base a dove va a colpire il raggio laser e a come mi ritorna mi dà una gradazione di colore ma non è classificato per cui non so se è una parete piuttosto che un mobile che ha attaccato la parete un tavolo o quant'altro ed è questo proprio il problema che mi permette che non mi permette di essere molto veloce con questa nuvola di punti naturalmente se io lavorassi su un'immagine come quella di destra la cosa sarebbe un po' più semplice tenete presente che quell'immagine che voi vedete non è una fotografia in bianco o nero è un vero e proprio rendering della nuvola di punti che voi vedete a sinistra grazie proprio alla tecnica di rilievo del laser scanner se avessi montato sul laser scanner anche una fotocamera vedrei la foto a colori per cui lavorare in questo ambito è indubbiamente più veloce anche questa che voi vedete è un rilievo di un laser scanner è praticamente il rendering della nuvola di punti vedete il grado di dettaglio per cui si vedono le fughe si vedono gli interruttori si vede tutto si vedono cose che magari facendo un rilievo tradizionale non andrei a rilevare però magari in un secondo momento potrei avere necessità per qualsiasi ragione di rilevare l'altezza degli interruttori la dimensione della nicchia la posizione del quadro elettrico e qui è vero che potrei avere una fotografia però diciamo devo capire dov'è devo capire come sono e che dimensioni hanno questi oggetti con il laser scanner queste cose sono tutte diciamo così memorizzate andiamo a fare un esempio pratico allora prima di tutto mi sposto su un modello che mi permette di fare questo tipo di operazione magari rimango soltanto sulla finestra di lavoro in pianta mi sposto su questo foglio di lavoro e vado ad attivarmi un plugin che appunto è Scalipso che andremo adesso a vedere allora Scalipso è questo plugin di Alplan per cui si interfaccia perfettamente con Alplan che gestisce le nuvole di punti alla vostra sinistra vedete tutta una serie di nuvole di punti in particolare se ne apro una ad esempio la 175 che è quella che vedevate prima nella slide vedete che in effetti lui mi fa vedere esattamente quello che vedevamo nell'immagine ok questa è l'immagine che stavate vedendo vedete che c'è il cerchio nero perché appunto come dicevamo non riesce ad arrivare proprio fino sulla verticale dello strumento ovviamente queste parti che non vengono rilevate con questa scansione verranno rilevate con altre scansioni come vi dicevo qui ho un dettaglio che è estremamente grande vi ricordo che è una nuova di punti questa poi vedete qui sulla porta c'è questo fogliettino sono dei target che diciamo venendo letti da diverse scansioni mi collegano le nuvole di punti per cui sono tutte referenziate e io posso lavorare e concentrarmi anche su ogni nuvola per ogni stanza per cui farò un rilievo facendolo abbastanza semplicemente se devo andare a prendere le misure come quelle che abbiamo visto nella slide qui devo aprire un'immagine planare per cui immaginate è la stessa immagine che voi avete visto è come una scatola di scarpe fate conto che viene aperta su tutti i lati per cui sembra deformato ma in realtà è soltanto la visualizzazione deformata in realtà le misure sono corrette per cui se io dovesse andare a prendere già a questo livello delle misure semplicemente definisco cosa voglio prendere ad esempio da questo punto a questo punto vedete che sulla parte in basso a sinistra ho anche uno zoom dove posso andare vedete vedo proprio i pixel del mio elemento e quindi vado a definire quella che sarà la mia altezza della nicchia a rilevare l'altezza della nicchia dopodiché posso cambiare tipo di rilievo di misura e fare un rilievo diciamo sulla parte orizzontale vedete che diventa estremamente semplice voglio sapere l'altezza dell'interruttore da terra misuro in verticale per cui posso prendere un punto centrale lui naturalmente quando io clicco su questo punto ovviamente qui ha una miriade di punti prenderà quello più vicino a dove ho fatto il click per cui avrò sempre una grande precisione naturalmente avendo fissato il rilievo diciamo così della misura in verticale vedete che anche se mi sporto lui si agira sempre sull'1,18 perché? perché ovviamente è quella la distanza che rileva in quel particolare punto questo è diciamo già un primo effetto che mi dà lavorare con questi tipi di strumenti dipendiamo però alla ricostruzione del modello B allora come possiamo operare? facciamo un piccolo esempio per cui allora mi sposto un attimo questa cosa e vado a chiudere questa scansione apriamo un'altra scansione potrebbe essere questa ok questa è una scansione di una sempre di una di una stanza di questo edificio edificio che fra parentesi io non ho mai visto nel senso che mi hanno consegnato queste nuvole di punti e con questo metodo appunto di navigazione riesco veramente a controllarmi le diverse stanze vedete che questa è una stanza ha delle pareti questa parete sul fondo è spezzata vedete che diciamo non è dritta per cui mi rendo già immediatamente conto di quello che succede dopodiché come dicevamo vado ad aprirmi l'immagine planare allora qui poi ho diverse possibilità magari questo lo tolgo e questo lo tolgo ho diverse possibilità naturalmente io potrei andare a fare un semplice clic in un punto qualsiasi lui naturalmente rileva il punto vedete che mi dà le coordinate di quel punto in z è a 0,338 come vi dicevo ho diverse possibilità potrei andare anche a fare una sezione orizzontale per dire per cui vado a dirgli che la coordinata in z è punto allora vediamo un po' 0,338 ad esempio per cui voglio una sezione orizzontale posso definire il pacchetto di punti il panetto di punti che lui deve prendere in dettaglio per cui rispetto a questa quota andrà su in alto di 2 cm e sotto di 2 cm per cui avrò diciamo una determinata quantità di numeri a questo punto potrei fare la sezione su tutta l'intera scansione in questo caso magari mi concentro soltanto su questa per cui sulla stanza e posso importare in Alplan quelli che sono i punti per cui se vado a vedermi quello che è successo vedete che lui mi ha esportato i punti a questo punto potrei tranquillamente andare a andare a ricalcare è questo che fanno di fatto i disegnatori che mi restituiscono i disegni del laser scanner il disegno per cui posso fare una sezione posso fare delle sezioni verticali posso fare tutto quello che voglio potrei anche importarmi e poi lo vediamo una parte della nuvola di punti però non ha senso perché comunque sia avrei questa nuvola di punti all'interno del mio beam che diciamo mi limiterebbe comunque un po' la gestione perché non c'è un automatismo che mi generi il modello beam ma dovrei comunque andare a lavorare in maniera manuale anche quando vi fanno vedere che diciamo queste nuvole vengono importate nei modelli beam in realtà sì è vero io potrei importarla e potrei fare delle sezioni architettoniche però alla fine quella che mi restituisce sono sempre ed esclusivamente punti per cui in qualche modo dovrò andare a ridefinirli andiamo a vedere come potremmo eventualmente lavorare in maniera un po' più veloce allora torno qui e un'altra possibilità che abbiamo è quella di andare a definire alcuni punti sulle pareti per cui semplicemente io dico guarda prendo questo punto e questo punto poi prendo questo punto e questo punto questo punto e questo punto qui altri due punti vedete che sotto me li fa vedere e questi due punti fatto questo diciamo che vado ad esportare quello che è la sezione orizzontale mi dice attenzione guarda che hai fatto dei punti che hanno delle quote in z differenti diciamo che lo faccio a punto 35 cm e vado ad esportare il tutto lui mi butta fuori tutti i dati e mi va a ricostruire il tutto ok per cui diventa abbastanza semplice andiamo avanti così vediamo un po' cosa poter fare se voglio la posizione di questa porta posso anche cliccare semplicemente sullo stipite un paio di punti e vado a dire di portarmi fuori una linea poi un'altra linea dall'altra parte e vado a vedere cosa è successo nel plano vedete che lui mi ha portato fuori gli stipiti della porta poi andiamo avanti ulteriormente ad esempio facciamo un'altra stanza questo potrebbe essere un metodo di lavoro provate a immaginare avere magari due monitor o comunque un monitor grande cosa che ormai quasi tutti abbiamo e quindi lavorare in parallelo in maniera molto semplice dunque andiamo ad aprire la vista numero 162 ok che è questa allora prima magari vi apro questa vista la 164 ok così vi mostro l'altra stanza che voglio rilevare vedete che qui c'è l'altra stanza che voglio rilevare allora la posso guardare vedo che qua in fondo c'è un pilastro un camino qualcosa del genere qui c'è la la parete dritta bene o male qui è dritta qui anche però qui vedete che qui è dritta e qui praticamente va indentro per cui questo livello non è a questo livello allora qui io posso anche operare su diverse su diverse nuvole di punti allora vado ad aprirmi a livello planare questa nuvola di punti che appunto è la 164 e comincio semplicemente a prendere dei punti allora dico voglio prendere i punti me la rimpicciolisco un po' qui e qui che è dritto dopodiché vado a prendermene uno qui e uno qui poi dovrei prendermeli quelli diciamo che al momento non vedo ma li vedo sull'altra scansione sulla 162 per cui lo apro vedete che ce l'ho da un'altra angolazione prendo questi due punti torno sulla precedente nuvola di punti vado sull'altra parete quindi proseguo in questo senso questa e questa poi vado a rilevarmi quello che è il pilastro questo e questo questo e questo e infine prendo l'ultima parete questa e questa a questo punto vado a portarmi fuori quelli che sono i punti per cui va bene va bene la quota ok vado nel plan e vedete che piano piano mi vado a ricostruire quello che è il mio il mio modellino naturalmente procedendo in poche parole di questo passo andrò a ricavarmi quelle che sono le stanze che compongono questo piano di modello qui al plan naturalmente mi dà una grossa mano perché diciamo ha delle funzionalità che mi permettono di essere molto veloci se io voglio ricostruire le pareti in automatico magari vado a bloccarmi quello che è la paletta laterale ho delle funzioni specifiche che mi permettono appunto di far questo per cui andiamo andiamo qui magari la parete esterna al momento non me la non me la genero diamogli ok magari andiamo ad aprirci le tre finestre così vediamo velocemente quello che lui farà ok vado a dire che voglio prendere in considerazione questi vani e lui praticamente mi tira su quelle che sono le pareti questo è comunque un metodo di lavoro che mi permette di essere comunque molto veloce ok qui l'ho ricostruita precedentemente e non mi toglie la possibilità comunque di utilizzare tutte le funzioni parametriche di al plan che mi permettono di modellare diciamo di andare dietro un po' a quelle che sono le rifiniture del mio modello anche qui fate conto di dover affrontarle un restauro conservativo ad esempio per cui anche i seramenti devono essere esattamente come sono stati rilevati anche qui al plan mi mette a disposizione una serie di funzionalità che mi permettono di essere molto veloce allora sempre in concomitanza con Scalipso che praticamente è il plugin che mi fa lavorare molto velocemente su questo tipo di rilievo allora prendo ad esempio questa funzione che mi permette di modellare un seramento ad esempio devo dire quanto sarà il telaio di questo seramento lo voglio preciso vado sempre in Scalipso mi apro la diciamo la nuvola dove c'era la finestra in questione che era questa il finestrone è questo vedete che posso avvicinarmi anche molto delta z e vado a misurare quant'è il mio telaio che è di 5 cm vado in alplan e comincio a dire che il telaio è di 50 mm ok 50 mm fatto questo confermo e comincio a comporre la mia finestra poi ho un traverso per cui ho un traverso che dimensione avrà il traverso andiamo a vederlo andiamo qui il traverso diciamo che è questo queste sono le finestre che si aprono il traverso quindi è soltanto questo è di 61 61 mm per cui vado qui vedete che vabbè qui li avevo già inseriti perché avevo già visto queste misure non ci rimane altro che posizionare correttamente all'interno per cui attivo questa funzione vado sempre in scalipso e vado a misurare la distanza fra questo e questo che sarà un 64,9 diciamo un 65 cm con questo metodo vado semplicemente a scrivere qua il valore e vado a sparare all'interno del mio serramento il montante orizzontale di questo passo mi vado a costruire il mio serramentino esattamente con le misure che ho da rilievo nel caso dovesse essere molto preciso come vi dicevo non è che al plano riesca a gestire la nuvola di punti io lo ripeto posso anche importarla però perché mi devo andare ad importare miliardi di punti con tutte le difficoltà che ho nel gestirlo secondo me questo tipo di metodo potrebbe essere sposato magari anche ad una sezione orizzontale dei punti che mi fa vedere se effettivamente i muri sono a piombo con tutta una serie di sezioni diciamo diventa con questa sinergia veramente efficace la restituzione del rilievo ciò nonostante io potrei avere necessità in un secondo momento di avere magari delle informazioni inerenti non so agli scarichi cosa che magari io con un rilievo tradizionale non avrei rilevato per cui dov'è il lavandino dov'è lo scarico del lavandino o del vc o del water allora anche qui semplicemente mi vado ad attivare quello che è il mio plugin vado in scalipso vado a prendere la scansione dove ho rilevato il bagno ok andiamo a vederla nella sua nella sua vista vedete che qui ho i sanitari ho gli scarichi ho tutto quello che ovviamente lo strumento ha visto vado ad aprirla a livello planare e vado ad analizzare ad esempio il lavandino cosa posso fare qui posso isolare la nuvola di punti che mi determina il lavandino vi ricordo che voi state guardando questo tipo di visualizzazione in realtà è la nuvola di punti renderizzata per cui prendo fino magari a qui a qui a qui perfetto a questo punto vado a dire che voglio esportare in questo caso la nuvola di punti diciamo che questo tipo di scansione va bene vado ad esportarla vado a vedere cosa è successo nel plan e vedete che ho la posizione esatta nel mio lavandino per cui non è che non lo posso fare in questo caso mi è comodo indubbiamente voglio un particolare e si vede naturalmente anche in tridimensionale per cui io non dovrò fare altro che andare nelle mie librerie di al plan e andare ad inserire quello che è il mio il mio lavandino per cui diciamo mi diventa estremamente semplice andare a fare questo tipo di operazione per cui prendo ad esempio il lavandino e lo metto dove deve andare ok e lo posiziono qui diciamo vabbè qui adesso non vi faccio vedere mi premeva farvi capire un po' il tipo di potenzialità che ha questo metodo di lavoro per cui questo è la restituzione del modello del modello BIM andiamo a vedere ulteriormente la nostra presentazione e andiamo ancora più avanti andiamo ci spingiamo un po' un po' oltre qui andiamo effettivamente a vedere come gestire il modello BIM prenderemo in esame quello che voi state vedendo questo tipo di modello per cui se guardate la pianta non c'è un muro diciamo a pianta rettangolare non c'è un muro in squadra è una classica ristrutturazione di un centro storico oltre a questo successivamente andremo a vedere quello che vi dicevo prima cioè il 4D e il 5D nel modello BIM di ristrutturazione è un tema vi dicevo che molto spesso non viene mostrato perché non è proprio così semplice gestire questo tipo di operazione noi vi faremo vedere la nostra proposta con i tempi e i costi e utilizzeremo nel dettaglio il software di STR Vision CPM che ha un'interfaccia dedicata al plan per cui andiamo magari qui possiamo abbassare andiamo direttamente nel plan e andiamo a prendere il nostro progetto allora prendiamo il nostro progetto quello che voglio mostrarvi è questo modellino ok per cui ve lo faccio vedere in finestra di animazione modellino diciamo c'è un po' di tutto qui ci sono muri fuori squadra come vi dicevo finestre da lineare insomma qui in effetti diciamo è più facile trovare questo tipo di ristrutturazione che cose magari piccole che normalmente vengono affrontate in questi webinar allora vediamo come fare magari ve lo faccio vedere un po' più nel dettaglio anche in pianta per cui andiamo a spegnere diciamo anche i vani magari li mettiamo soltanto così e la scala così va bene vedete che lo vedete proprio in pianta qui c'è veramente un po' di tutto ci sono murature di diversa forma non ce n'è una dritta e sono tutte diciamo muri fuori squadra questo è lo stato di fatto ok per cui diciamo lo stato di fatto come abbiamo sempre detto è lo stato di fatto per cui viene intavolato così com'è e noi andiamo a lavorare creando il modello B ma attenzione perché naturalmente come vi dicevo prima non è proprio veloce se così vogliamo dire bisogna avere delle attenzioni un po' particolari per gestire questo tipo di operazione allora la prima cosa che voglio fare è fare una copia banalmente delle pareti per cui andiamo a fare una copia magari ve la faccio vedere proprio passo passo per cui utilizzerò questo comando me la copio su questo ramo di struttura poi faremo anche un accenno al ramo di struttura e alle sue caratteristiche va bene e andiamo a copiare tutto andiamo a vedere il nostro modello che possiamo spegnere e qui diciamo andiamo sulle pareti la scala andiamo a prendere la nuova scala no andiamo a prendere la scala esistente ok perfetto e ho il mio il mio modellino allora qui cominciamo a fare i nostri ragionamenti allora normalmente come siamo abituati a lavorare allora normalmente io ho fatto una copia dello stato di fatto andrei a cancellare bene o male quello che non mi serve magari non cancellerei proprio le strutture portanti però diciamo divisorie così se voglio andare a rifare un po' quello che è il layout interno del piano cancellerei bene o male tutto diciamo che posso fare la stessa cosa solo che invece che utilizzare il comando cancella classico vado ad utilizzare quella funzione che vi ho fatto intravedere prima allora prendo questa funzione allora questa funzione una piccola parentesi veloce è una macro funzione ha diciamo la possibilità di convertire un oggetto in stato di fatto in demolizione e in nuova costruzione allora il comportamento che adesso assumeranno gli oggetti lo faranno perché è stato configurato diciamo in un certo modo questa maschera non è mia intenzione entrare nel dettaglio non è questo il fine a me interessa farvi capire un po' come gestire il modello BIM non è niente di trascendentale semplicemente quando io vado a fare alcune operazioni ad esempio di demolizione la demolizione viene portata su un layer particolare e vengono assegnate delle caratteristiche di tipo riga penna e colore particolare in più nel mio caso ho fatto un qualcosina in più mi sono anche collegato il materiale e a questo materiale è collegato una voce di listino per cui ho fatto un qualcosina in più ma questo è abbastanza normale configurare le funzioni in un software BIM concentriamoci un po' invece sul modello e sul processo come vi dicevo cosa fareste? avreste cancellato tutto in realtà lo posso fare anch'io posso dire che queste due pareti che non sono portanti non le voglio praticamente vado ripulirmi il tutto quando faccio applica il tutto naturalmente scompare per cui mi tolgo tutto quello che non è strutturale ad esempio questo 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 ok per cui di fatto faccio un po' quello che facevate voi o che si faceva normalmente vado a cancellare un po' il tutto naturalmente se vado ad attivare quello che è lo stato di raffronto e nella palette dei layer vado anche ad attivare quelli che sono i layer dove ho spostato gli elementi di demolizione vedete che riappaiono il fatto di vederli anche in finestra di animazione è soltanto è quasi ai fini puramente estetici perché alla fine poi le tavole di raffronto vengono viste in pianta in sezione in prospetto l'animazione diciamo è soltanto a contorno per cui cosa cosa succede? se lo faccio anche su questo setto riprendo la mia funzione invece che cancellare prendo le demolizioni tocco e faccio un bel applica per cui praticamente è questa l'operazione che normalmente si fa la fate con questa modalità arrivati a questo punto potete cominciare a fare diciamo così altre considerazioni ad esempio voglio anche così tamponare o modificare la posizione delle porte o tamponare le porte anche in questo caso se questa porta non la voglio la seleziono e la demolisco la seleziono e la demolisco naturalmente adesso io vi faccio vedere un po' diciamo qualche passaggio se volessi tamponare non soltanto cambiare serramente ma volessi tamponare questa porta perché non mi serve più utilizzerò un'altra funzione che l'avete vista precedentemente corpo di demolizione anche in questo caso io ho già configurato tutti i settaggi per cui i layer il colore rosso e quant'altro e vado semplicemente a prendere in considerazione quello il foro in poche parole che ho demolito perché quando applico lui capisce che in questo caso io voglio andare a tamponare quegli elementi per cui diciamo con queste due funzioni noi possiamo andare magari anche questo lo voglio togliere a definire tutto quello che deve essere demolito e tutto quello che sarà una nuova opera ovvio che un po' di lavoro in più c'è certo che c'è ma diciamo se io voglio lavorare con un processo BIM questo è quello che noi dobbiamo fare qui ho degli assistenti che mi possono aiutare hanno già le caratteristiche diciamo di nuova opera o di demolizione naturalmente li posso editare in qualsiasi momento posso cambiare le caratteristiche anche se le ho presi dal nostro gruppo di oggetti già preconfezionati qui capovolgo e magari qui la tampono magari anche qui vado a intervenire un clic tasto destro del mouse mi permette di andare a fare delle modifiche su questa parete magari mettiamo qualche oggetto così anche per dare un po' di consistenza al nostro modello per cui magari vado a chiudere da qui a qui vedete che mi prende l'ortogonale va bene così e quindi faccio questo tipo di operazione adesso magari ve le faccio vedere anche con il raffronto aperto così ci rendiamo conto bene con il gialli e rossi di cosa sta succedendo attivo la funzione porta mi aggancio all'angolo la vado ad inserire qui a 10 cm di spalletta va bene e quindi vado semplicemente ad inserire in automatico quello che sarà magari il mio indicatore lo mettiamo semplicemente qui e quindi vado ad inserire e a lavorare normalmente come in questo caso lavorerei con un normale edificio di nuova costruzione da qui anche qui faccio una voglio fare un un disbrigo da questo punto lo voglio a un metro e cinquanta capovolgo la mia parete diciamo così e vado su parallelo acquista ok e anche qui posso andare poi ad inserire una porta per andare in questa stanza prima di tutto per cui la metto ad esempio qui a cavallo ok e poi vado ad aprirmi no questa c'è già va bene per cui vado ad aprirmi una porta anche su questa divisoria che c'è già ok vado ad inserirla qui va bene poi qui magari andiamo a spostare lo stile etichetta da questo punto magari lo andiamo a spostare leggermente più in su così non è in mezzo poi anche qui voglio vi dicevo io ho tolto naturalmente quelle che sono le strutture non portanti poi ovviamente posso anche fare dei ragionamenti per cui voglio spezzare togliere un pezzo di muro clicchi del mouse dividi campiture e vado a dire che diciamo mi allineo su questa divisoria vado a spezzare questo muro ok e vado a demolirlo per cui tocco la parte di muro che voglio demolire e lo vado a demolire dopodiché prendo questo e vado a dire che da questo punto avrò un 80 cm e traccio magari non fino a lì ma vado fino in fondo vado ad inserire quello che è la mia parete divisoria dopodiché prendo ancora una volta questo non giusto di etichetta ma l'apertura della porta e vado ad inserirlo qui magari in asse per cui vado a fare questo tipo di operazione ok e quindi compongo il mio progetto naturalmente io ve l'ho fatto vedere così ma forse la cosa più ovvia che voi potreste fare anzi senz'altro vado a spegnere le demolizioni sarebbe quella di lavorare così naturalmente per cui se io voglio fare una parete ovviamente devo avere le caratteristiche di pareti stato di progetto e queste ce l'hanno vado da qui ad esempio fino a qui ok ancora ho sbagliato vabbè fa niente me la spingo fino a qui ok e per cui diciamo posso lavorare anche in questi termini per cui se io vado a richiamarmi quelli che sono i raffronti vedete che il tutto appunto mi compare in maniera corretta concentriamoci per un attimo magari su questa parte di edificio vado a dire magari anche se voglio utilizzare degli elementi che ci sono già dentro come ad esempio questa porta la posso rilevare e posso utilizzarla qui ok per cui inserisco una porta qui l'importante è che mi ricordi praticamente di dire che questa porta è una porta va bene qua ho anche l'indicatore che è una porta che poi è una porta di progetto per cui anche in questo caso la vado prima di inserire ok magari la mettiamo di qua perfetto dopodiché mi devo semplicemente ricordare che questa porta è una porta di progetto mi rendo conto che questo lavoro c'è da fare però ripeto poi faremo una piccola divagazione su appunto i 4D e i 5D e tutte le informazioni che mi restituisce questo modello vedrete che probabilmente anzi sicuramente ne varrà la pena queste magari le voglio demolire ok qui naturalmente avevo demolito il muro per cui ovviamente oltre a mettere la porta nuova devo anche demolire un pezzo di muro e quindi vado ad applicare e lui automaticamente mi fa quello che deve fare se una porta è a cavallo nel senso che questa porta non la chiudo definitivamente ma la voglio in pratica spostare questa invece la chiudo del tutto mentre questa la voglio spostare vado a prendermi ad esempio una porta come questa va bene la metto ad esempio qui ok e a questo punto non faccio altro che andare ad affrontare le due cose per cui lui andrà a tamponare una parte di foro e me ne aprirà un'altra per cui diciamo è abbastanza semplice sull'esterno è la stessa cosa praticamente la logica è quella per cui se voglio anche andare a trasformare questa porta finestra in una finestra visto che già ho una porta finestra magari cosa devo fare come dicevamo prima la demolisco per cui questa non sarà più una porta finestra con queste caratteristiche vediamo se ho una ok mettiamo dentro questa finestra e vado ad inserirla in questo punto vedete che lui l'ha già messa dentro e a questo punto vado a raffrontare le due cose e quindi vado ad applicare e ovviamente lui mi fa quello che deve fare ok per cui se dopo vado sulla parte di progetto e vado a spegnere quelle che sono lì magari qua aggiorniamo un po' perché sono comparsi anche i corpi di demolizione la mia finestra è lì poi posso mettere dentro lì ovviamente gli anti d'oscuro e quant'altro per cui diciamo è abbastanza semplice possiamo inserire delle scale possiamo inserire tutta una serie di cose allora magari questo è un giro scala innanzitutto mettiamoci una porta che da lì è semplicemente a 5 cm ok andiamo a vedere di inserire una scala in una posizione quindi mi apro magari questo come sfondo e prendiamo la nuova scala ok questo possono anche rimanere semplicemente sullo sfondo in modo da vederle in maniera molto leggera le scale al plano ha un modulo dedicato alle scale qua decido semplicemente che scala voglio andare ad inserire definisco l'ingombro vedete che mi ero semplicemente tracciato delle linee 2D per avere diciamo almeno l'andamento dell'ingombro della scala magari la facciamo anche molto veloce ok definiamo da un paio di cm 308 la quota dell'extradosso del solaio superiore va bene confermiamo e praticamente abbiamo fatto la nostra scala va da sé che lavorare con un modello 3D mi fa vedere in realtà se le dimensioni sono giuste se la scala mi permette di passarci sotto con la porta e quant'altro qui posso andare a definire quella che è la geometria per cui posso dire che voglio un'anima di 10 cm va benissimo e quindi ho la mia scala l'unica cosa che devo ricordarvi anche in questo caso è di andare a dire che questa scala è una scala di nuova costruzione per cui anche in questo caso andrò a definire la mia scala come scala di nuova costruzione e se vado sulla parte di raffronto naturalmente mi diventerà rossa un'altra cosa estremamente importante è l'inserimento dei vani delle finiture questa la possiamo spegnere questa la manteniamo ok perfetto dicevamo quelle che sono le finiture i vani allora avete visto che qui ce li ho già nella parte nuova che ho totalmente demolito devo ancora inserire quelli che sono i vani i vani diciamo hanno delle caratteristiche nel plano molto importanti perché non mi definiscono soltanto la funzione cioè la destinazione d'uso della stanza ma mi permettono anche di andare a definire quelle che sono le finiture delle superfici sia laterali che di soffitto di pavimento andando ad inserire più strati per ogni pacchetto di finitura anche qui io l'ho collegato ad un listino per cui come vedete dopo avremo qualcosa di molto interessante stanza dicevamo ricerca aree attivo ci vado a cliccare semplicemente dentro magari faccio un tipo di descrizione molto semplice molto veloce magari non in automatico ma in orizzontale e vado a definire quelle che sono le stanze questa questa poi innanzitutto vado via un po' veloce intanto la definisco così per cui chiamo tutto stanze questo sarà l'ingresso in un secondo momento e questo sarà il disbrigo perfetto e lo mettiamo qui dopodiché posso andare a cambiare ad esempio la descrizione come se fosse un testo per cui questo è un bagno confermo perfetto se richiamo le caratteristiche vedete che lui mi ha cambiato anche all'interno delle informazioni il bagno altrimenti posso andare a editare la stanza e cambiarlo da questa maschera per cui questa sarà una cucina soggiorno e questo sarà l'ingresso principale della palazzina per cui sarà un ingresso magari lo chiamiamo appena lo trovo ok e questo sarà un disbrigo per cui non stanza ma un disb perfetto per cui diciamo ho già inserito anche quelle che sono le informazioni poi qui adesso io non diciamo non è lo scopo quello di farvi vedere architettonicamente la pianta però ovviamente ho la possibilità di andare ad etichettare quelle che sono i rapporti aereoilluminanti in base diciamo a quello che io voglio descrivere per cui il bagno avrà il bagno la superficie pavimento la superficie finestrata e quant'altro detto questo cosa possiamo fare come vi dicevo qui lo scopo è quello di elaborare un modello BIM per cui se vado a richiamarmi il raffronto e ad attivare quelle che sono i layer delle demolizioni ho il mio quadro completo qui cominciamo a vedere quali sono i benefici di lavorare con un modello BIM allora innanzitutto posso andare a prendermi dei report ok come sapete al plan ha a disposizione tantissimi report ogni cartella che vedete è dedicata ad un ambito diciamo del processo BIM per cui potete avere tutte le informazioni che volete mi concentro sulle ristrutturazioni vado ad esempio sulle nuove costruzioni e vado ad analizzare le pareti ad esempio non ce ne sono molto in realtà di nuova costruzione però diciamo con un semplice click del mouse in sostanza vado a rilevare quelle che sono le pareti che ho fatto di nuova costruzione con le sue misure con gli spessori e quant'altro la stessa identica cosa la posso fare per le demolizioni per cui vado sui report delle demolizioni pareti ok e vado a selezionare quelle che sono le pareti e vedete che anche in questo caso mi dà le demolizioni che sono molte di più anche se diciamo non di grande entità mi fa vedere tutto quello che ho demolito la stessa cosa vale per i corpi per i corpi di demolizione quelli praticamente che ci sono intorno alle finestre la stessa cosa qui per cui demolizioni andiamo a vedere i corpi di demolizione e quindi mi fa vedere magari i corpi che ho demolito all'interno dei muri portanti una cosa ancora interessantissima è legata ai vani per cui se io vado a richiamarmi un report che di fatto va a leggere cosa è successo all'interno dei vani per cui vado ad attivarmi questo tipo di report vedete che fa una cosa molto interessante perché mi va a fare un elenco di quello che è successo all'interno del vano per cui mi dice se è stato demolito una parte di muro cosa è stato creato di nuovo che tipo di finiture ci sono e quant'altro per ogni singolo vano questo è molto comodo perché mi dà un report un abaco di tutto quello che è successo sezioni e prospetti anche qui diciamo naturalmente avendo il modello beam poi potete fare tutto quello che volete allora innanzitutto andiamo ad attivarci anche il secondo piano io magari non vi faccio vedere proprio tutto ma attiviamo sia il solaio che la soletta va bene perfetto vedete che ho il mio modellino completo con i brani di gronda i pluviali e quant'altro qui non devo far altro che decidere quali viste salvare ok per cui diciamo mi vado a salvare alcune viste mi sono fatto delle linee guida per non metterle diciamo a casaccio e vado a definire il mio prospetto ad esempio questo prospetto poi vado a definire vedete che mi dà anche la possibilità di descrivere quindi prospetto sud lo posso fare in automatico per cui vado a dirgli che questo sarà il prospetto sud dopodiché vado a fare quello che è il prospetto nord e avanti di questo passo magari qui per questione di velocità non lo faccio ok e vado a farmi magari un altro prospetto da questa parte per quanto concerne le sezioni è la stessa identica cosa per cui definisco semplicemente dove voglio sezionare ad esempio facciamone una per sull'asse verticale magari prendiamo anche le scale e facciamo una prima sezione ok lasciamo in automatico quello che lui mi descrive e facciamo la nostra sezione il tipo di rappresentazione può essere cambiata in qualsiasi momento per cui diciamo non c'è nessun problema magari ve lo faccio anche vedere poi lo potete variare in modo da vedere semplicemente un diciamo un disegno più pulito magari un po' più tecnico dove ci sono solo le linee e i gialli i rossi senza le campiture facciamo nel mentre un'altra sezione e la metto ad esempio qui ok queste sono diciamo viste collegate al modello per cui ovviamente se modifico qualcosa qui si modificherà anche sul modello voi sapete per chi conosce Planck io posso avere anche diverse tipologie di sviluppo degli elaborati cosiddetti derivati che hanno un'altra tecnica ma sono ugualmente efficaci posso andare a definirmi uno spaccato prospettico diciamo che così mi va bene vado a prendere ancora una sezione una sezione libera con questa prospettiva vado a dire che voglio sezionare sempre in questo punto ok e andiamo ad inserirla qui e quindi posso naturalmente dal modello B poi una volta fatto posso veramente andare a ricavarmi di tutto come vi dicevo se volete andare a avere qualcosa di un po' più pulito allora prima di tutto queste viste diciamo rispecchiano le stesse cose che avete visto nelle piante per cui se io passo allo stato di progetto e vado a spegnere quelli che sono i layer delle demolizioni ovviamente il tutto si ripulisce e mi passa ad uno stato di progetto ok per cui diciamo mi risulta molto semplice cambiare questo tipo di rappresentazione se volete una vista più pulita non dovete fra l'altro che editare le caratteristiche della sezione o del prospetto e dire che non volete nessuna campitura cioè volete una vista molto più tecnica per cui soltanto le campiture dei muri senza i rettini e quant'altro impaginare questi disegni è abbastanza semplice per cui vado all'interno dei miei layout di stampa e vado ad inserire quelli che sono ad esempio le piante per cui vado a dire che voglio inserire le pareti i vani i solai la scala nuova 3D e la scala stato di fatto 3D va bene ok vado a dire che sarà uno stato di progetto e non vorrò avere le demolizioni per cui vado ad inserirla qui vado ad inserire anche la pianta del secondo piano con lo stesso lo stesso metodo per cui le pareti e i vani va bene ma tutto di copertura al momento non mi interessa la scala non è al 50 ma è al 100 anche in questo caso andrò a definire lo stato di progetto come lo è già e lo vado ad inserire qui il raffronto cosa faccio copio semplicemente le mie viste quindi non è un duplicato è sempre la stessa vista per cui vado a dire che voglio inserire la mia vista qui prendo in considerazione quindi attivo la stessa vista vado nelle proprietà e vado a dire che sarà uno stato di raffronto e che vorrò vedere anche le demolizioni gialli e rossi per cui vedete che il metodo di lavoro poi diventa abbastanza fluido la stessa cosa può essere fatta per le viste e le sezioni allora andiamo sulla tavola delle viste e le sezioni qui vado ad importarmi quelli che sono i prospetti e le sezioni quindi vado nei derivati e vado a prendermi le mie viste ok al 50 e sempre stato di progetto e me le metto qui perfetto vedete che vengono inserite anche in questo caso non faccio altro che fare una copia del mio disegno della mia vista per meglio dire la metto qui sapete che nel plan potete importare la stessa vista all'interno dei layout quante volte volete apro le proprietà per cui vado a dire che non sarà uno stato di progetto ma uno stato di raffronto e mi fisso quelle che sono i layer delle demolizioni per cui diciamo ho tutto a posto vedete che la sezione è molto più pulita poi qui mancano le linee di misura vabbè qui le potete fare ci sono anche degli automatismi chiudo con il discorso 4D e 5D perché è molto importante allora qui magari mi spengo questo e vado ad aprirmi l'intero modello ok vedete che qui ho il mio modellino completo ok per cui ho fatto un po' tutto vado a prendermi quelli che sono i raffronti in più mi attivo quelle che sono le demolizioni in modo da avere tutto completo e quindi facciamo un ulteriore ragionamento per chiudere un po' questa sessione vi dicevo che tutto quello che ho fatto in realtà ha una sua logica tutti i corpi di demolizione nuove opere le demolizioni dei divisori interni sono associati ad un codice ad una voce per cui io non dovrò far altro che andare ad esportare un report una cosa vi faccio presente se voi notate come ho strutturato il mio modello al plan ha la possibilità di strutturare ad albero il modello immaginate di avere più modelli o comunque un modello molto complesso potreste potreste così separarlo in diversi corpi di fabbrica in corpi di fabbrica introterra e foriterra e poi in piani e poi in sottoparti del piano questa è quasi una una vbs è una scomposizione del modello questa scomposizione come potete vedere io l'ho codificata ho dato un numero ai singoli rami della mia struttura questa di fatto diventerà una scomposizione del mio modello che mi permetterà di fare un'analisi dei costi e soprattutto un cronoprogramma diviso per vbs quindi per scomposizione del modello e adesso ve lo faccio vedere anche se in maniera molto semplice attivo quelli che sono i report di Alplan mi concentro in particolare sui report che si chiamano str vision cpm vado a prendermi un report che è il report con vbs per cui andrò a rilevare i miei dati con la scomposizione della vbs che avete visto nella struttura opera non mi porto fuori tutto naturalmente ma vado a portarmi fuori solo ed esclusivamente quelli che sono diciamo gli oggetti architettonici ma soprattutto mi porto fuori quelli che sono gli oggetti di demolizioni e nuova costruzione non sono tantissime però mi permettono di fare questo esempio faccio un filtro vedete che mi porta fuori queste voci ecco non fatevi ingannare perché questi sono soltanto i raggruppatori in realtà qui io ho moltissime voci agganciate a questo listino ok dove potete vedere che comincio ad avere una struttura molto particolare mi salvo il mio file delle quantità me lo sovrascrivo a questo computo ok e andiamo a vedere cosa possiamo fare con queste informazioni mi sposto nella piattaforma vision cpm dstr allora questo è un software che mi permette di fare molte cose oltre ad un computo un computo medico estimativo c'è tutta la parte di gestione dell'opera la vbs la canterizzazione l'analisi delle voci ovviamente lo stato avanzamento di lavori e tutta una serie di operazioni in maniera molto dettagliata allora qui noi non dobbiamo fra l'altro che in fase di rilevamento cioè dove vado a rilevare quelle che sono le misure non le andrò naturalmente a inputare a mano ma andrò ad utilizzare l'interfaccia dedicata che str ha fatto con Alplan per cui non faccio altro che selezionare il mio file computo vbs del 20 del 4 è lui lo importo ok e vedete che lui mi ha importato le voci se vado a vedere l'albero diciamo di scomposizione la vbs e vado ad aggiornare vedete che lui ha proprio importato la stessa struttura che avevo nel progetto di Alplan se io ho anche classificato quelle che sono le lavorazioni lui me le raggruppa anche vedete che io ho raggruppato quelle che sono le demolizioni mentre le nuove opere le ho lasciate diciamo come divisori come divisori nel senso che ovviamente avendo portato fuori soltanto quelle che sono le nuove opere ovviamente quei divisori lì saranno di nuova costruzione questo mi dà la possibilità di fare un'analisi molto dettagliata vedete voglio sapere le lavorazioni al primo piano clicco sul ramo lavorazione al primo piano e ho l'importo clicco sul piano terra e ho l'importo queste voci che STR utilizza sono analizzate per cui non c'è soltanto la fornitura c'è la posa in opera ma anche il tempo di posa naturalmente lui si porta fuori non soltanto i valori ma anche la scomposizione diciamo delle misure che al plan gli fornisce per cui è molto dettagliato come cosa se vado a vedere quelle che sono le stampe ad esempio torniamo un attimo sul ramo principale vado nelle stampe vediamo che facendo un'anteprima di stampa anche nelle stampe verrà ricalcata la stessa scomposizione della struttura del modello BIM ecco perché diciamo ecco qui che si nota perché magari ho lavorato un po' di più però effettivamente ho dei vantaggi che sono molto grandi vedete come è strutturata ad esempio la stampa sempre per scomposizione del modello altra cosa e qui chiudo però è una cosa molto importante è il cronoprogramma come vi dicevo appunto le voci essendo analizzate hanno anche le tempistiche io creo un nuovo cronoprogramma dal preventivo per cui vado a definire un codice e chiamerò semplicemente il documento cronoprogramma va bene parto dal tempo zero come scompongo la mia opera la scompongo con la struttura vbs che deriva dal plan e con il codice capitolo dove ho raggruppato tutte le mie voci di lavorazione basta fatto questo confermo mi compare il mio documento richiamo il gant e lui praticamente lo fa in automatico provate a pensare che tipo di vantaggio avete lavorando con queste potenzialità naturalmente vedete che compare sempre la strutturazione per cui il piano terra verrà indubbiamente i lavori verranno fatti magari prima in piano terra per cui in sostanza non devo collegare il piano terra con il primo piano definire i tempi di inizio delle lavorazioni e collegare eventualmente le demolizioni con diciamo quelle che stanno in un secondo momento i divisori e quindi definirmi quello che è il mio gantt ok io ho concluso a questo punto la mia presentazione ho fatto una rapida carrellata su quello che è l'aspetto del BIM nella ristrutturazione spero che il mio collega abbia potuto rispondere alle vostre domande che immagino siano state numerose io comunque lascio aperta la sessione voi potete continuare a fare domande e chiudo comunque la registrazione video vi ringrazio per l'attenzione e ci vedremo nei prossimi eventi vi ringrazio